Musica Vive la Fronzalea Musica 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 In l'anno scorso l'anno passato il rote Toro. Segui bene? Sì! 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 Grazie a tutti. Mit einem wilden Ritt da, gleich weit raus, aus der rechten Seite. Man muss natürlich den Zug abbrechen, sobald man die Piste rechts oder links verlässt. Das war eine wilde Geschichte. Ja, ja, das hört langer links. Fins am Ende, Fins. Fins am Ende. 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 e il mio filo di 100 metri provi se provi se il mio padre adriano non lo posso fare ... ... ... ... ... ... ... La gara è in questo modo Il punto è inizio a passare La gara è inizio La gara è inizio La gara è inizio La gara è inizio La gara di D'Avigil Sì, 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 sì. Stato di Stato Alla prossima! Marco, un po' di messa e poi anche la stagione Applausi per un fattigio Applausi per un fattigio Marco, con la sua Compact-Diesel Big Teddy e che è venuto a fare con il fattiglio 3 class con il fattiglio In Zimmerwald, del Hagen vor dem deutschen Bremswagen Wir haben hier Guillaume und unsere Landfrau Adrian aus Reichenbach